Musica Rieccoci con l'informazione di Hermes edizione Marsala, oggi è venerdì 6 gennaio 2015, si festeggia San Paolo Michi. Apriamo con una ricca pagina di cronaca, arrestato dai carabinieri a stazione di San Filippo e Giacomo, un pregiudicato in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice delle indagie preliminari al Tribunale di Marsala. La misura restrittiva degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico è stata applicata ad Emanuele Mercurio, 25 anni, per rapina tentata estrusione in concorso. L'ordinanza del Tribunale fa riferimento a un intervento dei carabinieri, sempre alla stessa stazione di San Filippo, effettuato in contrada a Virgeni Vadori lo scorso 22 giugno. Allorquando venne arrestato in fragranza di reato Leonardo Azzaro, 25enne, marsalese, è denunciato proprio il Mercurio quale suo complice. Quella sera, alla centrale operativa dei carabinieri a compagnia di Marsala, infatti giungeva una chiamata di un cittadino che riferiva che poco prima il fratello, un invalido civile, era stato vittima di una rapina presso la sua abitazione, consumata da due soggetti travissati da passamontagna ed armati di cacciavita. Dietro minaccia i due malviventi, quindi Mercurio e Lazzaro, si erano fatti consegnare alla vittima quanto aveva in tasca, ovvero solo 30 euro che aveva nel portafoglio. Minacciavano lo stesso chiedendoci a scopo estorsivo la somma di 500 euro da consegnare il giorno seguente in contanti, altrimenti avrebbe avuto gravi ripercussioni. A mo' di pegno, per la futura adazione del denaro, i malviventi chissotravevano i documenti presenti nel portafoglio. Ancora attestazioni di solidarietà per il procuratore capo della procura di Marsala, il nucleo di polizia e giudiziaria, la guardia di finanza presso il tribunale e il direttore attestato giornalistica TP24, vittime di un virile atto intimidatorio. Il presidente e il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati di Marsala, rispettivamente Vito Marcello Saladino e Sara Quittino, a nome della locale sottosezione, manifestano con forza la propria vicinanza morale e il proprio convinto incoraggiamento al procuratore della Repubblica di Marsala, autore Alberto Di Pisa, a tutti i colleghi della locale procura della Repubblica, agli ufficiali di polizia e giudiziaria che ricoadiono abitualmente e al direttore responsabile attestata online TP24, destinatari sia diretti che per via mediata dell'inqualificabile atto di intimidazione di cui si è avuta notizia attraverso gli organi di stampa. Si ricorda che una lettera è stata recapitata alla testata TP24 con all'interno l'invito di inoltrarla al procuratore capo e ai caini della nucleo di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, all'interno di un'altra busta che era della polverla sparo e con la scritta ne abbiamo tanta, boom, quindi un serio chiaro di atto intimidatorio. Vito Marcello Saladino e Sara Quintino ribadiscono che ciò non fermerà per nulla l'operato della procura e del magistrato di Pisa che proseguirà nel suo intendito quotidiano per rispetto della legalità e della rinunciabile valore alla Costituzione della Repubblica sull'intero territorio e del circondario e quindi non avrà alcuna battuta al resto e proseguirà nell'interesse di tutti i cittadini ancora più intensamente se possibile di quanto non sia avvenuto fino ai nostri giorni. Una notizia che ci lasciamo un po' tutti con la mare in gola, un personaggio molto noto a Marsala si è spento ieri, è il dirigente medico dell'ASPE numero 9 di Trapene, il dottor Vincenzo Bonomo, un carissimo amico a causa di un improvviso malore, il dottor Bonomo, 60 anni, stimato medico del lavoro e delle assicurazioni, era in servizio all'ospedale Sant'Andoni a Bati Trapene dopo diversi anni di servizio al pronto soccorso all'ospedale San Biagi di Marsala dove era divenuto uno degli uomini di prima emergenza. Vincenzo era molto apprezzato dai suoi colleghi e pazienti, spesso veniva interpellato per casi più impegnativi. Lo vogliamo ricordare per la sua professionalità e per il suo tratto umano e screzzoso. Lascia una moglie, Teresa, una figlia, Emma e la sorella Barbara. A questi e a quanti lo conoscevano vanno le più sentite contro le anze anche da parte mia e della nostra redazione. Apploda in procura il caso della palestra in Agibbe di Gerbato, impiegata per eventi sportivi di ogni genere. La struttura, gestita dall'associazione Un altro Sole, di cui è Presidente Giussi Stella, non potrà più ospitare eventi. La notizia dell'inegibilità dell'impianto sportivo di contrada di Gerbato non è nuova. La palestra per anni è abbandonata, ha subito l'orda dei barbari che l'hanno privata di quanto era sportabile e poteva essere rivenduto e danneggiato tutto il resto. Poi arriva l'amministrazione Adamo, presa dalla voglia di reddere le contrade vivibili con feste e sagre. Ne affida la palestra all'associazione Un altro Sole per promuovere la sagra della Cuccia. Per un paio d'anni era affilato tutto liscio, o quasi. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso è stata data dal carnevale scorso, quando la struttura ospitò serate e danzandi in maschera con picche di partecipazione che oltrepassarono le mille presenze. Arrivò inevitabilmente la CIA e il verbale fu di 2.000 euro per non aver ottemperato ai diritti d'autore, anche se il Presidente dell'associazione Giussi Stella si la difesa dicendo che non era un biglietto che si pagava per l'ingresso, ma solo un piccolo contributo per le spese in gestione per poter recuperare gli impianti distrutti. Il Comune di Marsala diffidò l'associazione Un altro Sole che non si arrende e tra richieste di documentazione e un'altra tiene la sagra della Cuccia. La vicenda finisce nel Consiglio Comunale, si inaspiriscono i toni, la palestra essendo inagibile non può ospitare nessun tipo di evento. L'associazione Un altro Sole, nella speranza di ottenere permessi necessari, ha organizzato invece le serate danzandi al carnevale di quest'anno, che avrebbe dovuto aprirsi la prossima settimana. Ecco che invece giunge il provvedimento giudiziario. Dopo la sagra Cuccia, il Comune di Marsala avrebbe trasmesso i documenti in procura e presentato una denuncia all'associazione Un altro Sole perché non si sarebbe ottenuta alla diffida che aveva già avuto prima della Cuccia. Non do la colpa a nessuno, ma c'è stato un consigliere comunale che ha fatto pressioni, ha dichiarato Giuse Stella nella qualità di Presidente dell'associazione che gestiva la palestra e di Cervato. La struttura è solida, i ragazzi vogliono continuare a organizzare eventi per la comunità, sono pronti a tutto, paghiamo il fatto di non essere schierati politicamente con nessuno. Questa è la dichiarazione di Giuse Stella in merito alle vicende della palestra. 5 delle 27 opere pubbliche siciliane finanziate dal CIP, ma in atto e in stand-by, ricadono al territorio di Marsala. Si tratta di cantieri da tempo finanziati per oltre 3 miliardi di euro in Sicilia, ma mai appaltati. Un vero mistero, nessuno sembra saperne nulla. A Marsala rischia di non essere realizzata l'intera rete fognaria e la bretella autostradale Svingolo, aeroporto Birgi, Mazzara e Vallo. Tutti e quattro i lotti della rete fognante di Betanna risultano infatti finanziati, ma i lavori non possono iniziare perché nessuno ha proceduto a indire le relative gare d'appalto. A distanza di circa tre anni, all'approvazione dei quattro progetti esecutivi, che ha un valore complessivo di 24.939.000 euro, già stanziati dal CIP nel 2012 con la delibera numero 60. Questi, i lotti misteriosamente, non sono andati in appalto. Stessa sorte per il tratto stradale Trapari-Mazzara e Vallo, variante statale 115 sud-occidentale Sicula, compresa tra lo Svingolo di Birgi sulla Stata 29 e il collegamento alla statale 115 in località Mazzara e Vallo, opera finanziata per altri 134 milioni di euro dal CIP. Da tempo, secondo il rapporto redato dal Lancia Sicilia, nel 2013 queste opere sono state pronte per essere mandate ad appalto, ma, inspiegabilmente, nessuno ha mai provveduto a farlo. L'elenco dettagliato è stato realizzato su esplicita rischiesta del sottosegretario alla Presidenza dello Stato italiano, Graziano Del Rio. La speranza del Lancia Sicilia, associazione che annovera all'interno i maggiori costruttori e sindacati di categoria, è che l'intervento di Del Rio, quindi del Vice Ministro, possa finalmente rompere questo incantesimo e sbloccare la pubblicazione dei bandi di gara. Si ricorda che opere del genere, oltre a creare infrastrutture sul territorio, sono necessarie anche a dare una boccata d'ossigio all'economia, potranno garantire posti di lavoro e muovere tutte le imprese dell'indotto. Discussa, modificata ed inviata agli uffici competenti, la bozza del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale di Marsala. La prima commissione consigliere affari generali, preseduta da Luigi Ingrassia, ha completato l'esame della proposta di deliberazione e ha passato il fascicolo agli uffici competenti per l'acquisizione dei necessari pari tecnici. La bozza del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Comunale, rivisitata e aggiornata dalla prima commissione consigliere affari generali di Marsala, che la resa più moderna e in linea con le nuove normative vigenti, dopo necessari pareti e gli uffici preposti, lo tornerà in Consiglio Comunale per essere definitivamente approvata. Passiamo alla pagina politica che ancora caratterizza la scena a Marsala in vista delle ormai imminenti elezioni di maggio. Massimo Bellina è imprenditore vinicolo, dirigente dell'ufficio estero della Carlo Pellegrino, in passato anche assessore dell'agricoltura e del comune di Marsala durante la seconda amministrazione guidata dal loro sindaco Salvatore Lombardo, porta a conoscenza una propria riflessione sul sindaco e Marsala e i suoi habitanti meritano. Bellina, uomo che ha girato il mondo, parla correttamente una decina di lingue, a lui deve l'azienda di famiglia gran parte del successo all'estero, in passato una cordata di imprenditori, aveva indicato anche quale candidato ideale ad occupare la prima poltrona, ma lui aveva desistito perché il tempo a disposizione non gli avrebbe permesso di essere un sindaco costantemente a disposizione della collettività. Oggi, con una lettera inviata dalle testate giornalistiche, Bellina esprime le proprie riflessità sulle primarie del PD in atto, auspica nell'unità del partito e incita la vittoria di un candidato che non si rilevi un mediocre alla guida di Marsala. Marsala ha bisogno di un nuovo sindaco e con questo concordiamo con Bellina. Ancora notizia riguardante la campagna elettorale, ricordiamo che domenica a Marsala si voterà per le primarie, tre sono i candidati in lista, ovvero la dottoressa Anna Maria Angeleri, professoressa nonché dirigente scolastico del liceo psicopedagogico Pascasio di Marsala, il medico in pensione, cardiologo nonché già primario dell'ospedale trapanese, Sant'Antonio Abbate Alberto Di Gironamo, il sindacarista con in passato anche esperienze di insegnamento e nonché presidente della CNA e vicepresidente della Camera Commerci di Trapani, Luigi Giacalone. I tre si contendono il posto per andare a occupare la candidatura al prossimo sindaco di Marsala nelle linee del PD. Quindi domenica 8 maggio a Marsala si vota, sono quattro i seggi istituiti in città. Sarà Giuseppe Rallo, amministratore delegato di Donna Fugata, la benemerita della viticoltura italiana 2015 che verrà premiata con la medaglia di Canale Grande il 22 marzo prossimo nella giornata inaugurale del Ministro sul segnalazione della regione siciliana. L'ecletismo, la capacità di comunicare le immagini di una Sicilia che produce dinamica e innovativa, ha dichiarato l'assessore Lino Caleca, assessore all'agricoltura della regione siciliana, mi ha indotto a segnalare Giuseppe Rallo per la Sicilia alvinita di quest'anno. Attraverso l'azione condotta, quale amministratore delegato di Donna Fugata, la dottoressa Rallo, rappresenta la migliore storia e cultura della Sicilia del vino. Voltiamo pagina e passiamo agli appuntamenti dal fine settimana. Il canto della maschera, terzo appuntamento per la stagione concertistica dell'associazione Ludovic Band & Beethoven, domenica 8 febbraio alle ore 18.30 al teatro Erio Sollima di Marsala. Sul palco, 13 cantanti, accompagnati al pianofolto, al maestro Sergio Fundarò, si esibiranno in un intrigante concerto di forma semiscenica, dal ticotro il canto della maschera, con brani tratti da musical, aree liriche e napoletane. L'ingresso è di Euro 10. Domenica 8 febbraio, uno speciale appuntamento con la musica anche al baluardo Velasco di Marsala, da Napoli, arriva uno dei gruppi di punta del nuovo sound partner europeo, i Fogia. Nascono nella primavera del 2006 e hanno all'attivo un utrito curriculum artistico che si contraddistingue per la grande qualità di musica prodotta in questi anni. Numerose sono le collaborazioni da Francesco Di Bella e 24 Grana a Peppe Lanzetto, Emilio Anziello, Caponello e Baggett Bangde, fino a Mattia Boschi dei Marta sui Tumbi. Scusate, nel 2013 aprono il concerto di Emanuciao alla mostra oltre mare a Napoli, appuntamento quindi al baluardo Velasco, come dicevamo, domenica 8 febbraio alle 21.30. La rassegna si tratta nei locali della sede in via Fisella, l'ingresso riservato ai soci ed ha un costo di biglietto di soli 10 euro. Ed ancora, sempre domenica 8, uno speciale appuntamento con la scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale Garibaldi di Marsala, diretto dal dirigente Sara Estre Caramella. Domenica quindi ci sarà l'Open Day, l'iniziativa di orientamento nell'ambito delle attività di informazione mirata a una corretta e consapevole scelta verso l'indirizzo di studio delle superiori di secondo grado. L'incontro che esiterà nella sede di via Fisella, nel centro storico, potranno partecipare anche i genitori e gli alunni dalle terze medie dal territorio di Marsala e Petrosino. Si inizierà a partire dalle 10.30. Per questa edizione è tutto, io mi congedo di voi e vi do appuntamento alle prossime. Sempre sul 629 di Hermes TV Video Sicilia, avete appena visto il notiziario edizione Marsala di Hermes TV. A voi tutti, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.